Privatizzazione alle porte e mancato gioco di squadra. Piovono attacchi al sindaco Ghinelli e alla sua giunta dopo la notizia di un potenziale privato disposto a finanziare metà dei 180 milioni necessari per rifare il San Donato. Motivo per il quale, peraltro, il vice sindaco Tanti ha annullato gli stati generali. Una mossa, quello dell'annuncio Urbi e Torbi, fatto da sindaco e dalla sua vice, che non è piaciuta ai consiglieri regionali PD Ceccarelli e De Robertis. Sull'ospedale San Donato di Arezzo il sindaco e la giunta sembrano creare una grande distrazione di massa, forse per giustificare il rinvio degli stati generali della salute e non mettere in difficoltà in un periodo di campagne elettorali il vero responsabile dei problemi della sanità pubblica, il governo Meloni, che continua in percentuale a tagliare risorse. Premesso che il project è di per sé uno strumento che in Toscana è già stato utilizzato per la realizzazione o la ristrutturazione di ospedali o strutture sanitarie, quello che a noi oggi risulta è che l'azienda ASL Toscana Sud-Est abbia ricevuto semplicemente la richiesta di dati da parte di un raggruppamento di imprese, come previsto dalla legge, intenzionate a formalizzare una proposta progettuale. Per Francesco Romizzi, consigliere comunale di Arezzo 2020, la privatizzazione del San Donato è alle porte. È dallo scorso novembre che l'idea di utilizzare i capitali privati per la ristrutturazione del San Donato alleggia nell'aria, a prescindere dal fatto che almeno da Ghinelli e tanti la città e il Consiglio comunale attendono spiegazioni, manifestiamo fin d'ora forte contrarietà a questa forma di privatizzazione del servizio sanitario. Ci auguriamo dunque vivamente che il Presidente Gianni non si affidi a questa soluzione.